Buon pomeriggio e bentrovati a un'edizione del nostro telegiornale in diretta come tutti i giorni dagli studi di ETV nel canale 12 del digitale terrestre ma anche in streaming nell'app di ETV nel nostro portale online www.etvmarket.it Naturalmente nella nostra pagina Facebook in apertura il terribile incidente mortale di questa mattina a Trecastelli un tragico schianto in via San Bartolo costato purtroppo la vita ad un 44enne di Corinaldo l'uomo era in sella ad una moto finita contro un mezzo agricolo una mietitrebbia è accaduto poco prima delle 8. Proprio questa mattina i sanitari giunti sul posto dell'incidente mortale hanno cercato a lungo di rianimare l'uomo ma non c'è stato purtroppo nulla da fare è stato invece trasferito a Torrete il passeggero della moto non è in pericolo di vita. Sul posto il 118 intervenuto anche con l'eliambulanza i vigili del fuoco e la polizia locale dell'unione dei comuni. Ancora cronaca questa volta con una violenza sessuale perché avrebbe violentato una ragazza pugliese di 20 anni dopo averla costretta a pagare la cocaina. Un operaio di 35 anni originario di Napoli ma residente tuttora in provincia di Pesaro Urbino è stato arrestato dalla squadra mobile di Rimini in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Rimini. Raffaella Ceccarelli è messa a seguito delle indagini della polizia di Stato coordinate dal procuratore Davide Ercolani. Ora l'uomo si trova agli arresti domicilari e è difeso dall'avvocato Alessandro Buzzoni. Respinge le accuse e sarà sentito in giornata dal giudice nell'interrogatorio di garanzia. La vicenda risale all'inizio di maggio quando la ragazza si trovava a Rimini per la festa dei lavoratori del primo maggio. Dopo la festa era rientrata in hotel per prendere i bagagli e raggiungere la stazione ferroviaria. Secondo la denuncia della giovanissima una volta arrivata la fermata dell'autobus sarebbe stata notata proprio dal 35enne che le avrebbe offerto un passaggio in auto. Sarebbe stato poi l'uomo ad adescarla e a convincerla a salire nella sua auto. La proposta di sniffare droga sarebbe arrivata sempre dall'uomo che una volta assunto cocaina avrebbe abusato di lei per poi scaricarla in A14 all'altezza del comune di Pesaro. La ragazza in evidente stato di shock è stata poi recuperata nella corsia di emergenza da una pattuglia della polizia autostradale di Fano avvisata da delle persone che passavano in quel tratto di autostrada. Cambiamo ora totalmente pagina perché è stata approvata in regione una nuova collaborazione in tema benessere dei lavoratori per promuovere il welfare aziendale. Sentiamo. Siglato un protocollo per migliorare il benessere dei lavoratori nelle aziende marchigiane tra regione Marche, associazioni imprenditoriali, sigle sindacali è il risultato in tema welfare. Raggiunto a Palazzo Raffaello un punto di contatto tra istituzioni, aziende e lavoratori per promuovere azioni condivise che migliorino il benessere all'interno dei posti di lavoro. La regione nei propri bandi inserirà delle premialità sia nei punteggi oppure addirittura economiche proprio per quelle aziende che promuoveranno il welfare nel punto aziendale e soprattutto delle iniziative per migliorare il benessere dei lavoratori. Questo perché crediamo fortemente che laddove il lavoratore si trovi in un ambiente sano potrà dare un contributo migliore per aumentare la produttività anche delle aziende. Orari di lavoro, maggiore flessibilità, nuove ipotesi di miglioramento e servizi per le famiglie e all'interno delle aziende un nuovo rapporto con i lavoratori con riferimento anche all'emergenza caldo vissuta da alcune categorie. Il fatto che la regione dopo una discussione lunga abbia con noi concordato di valorizzare accordi sindacali che avvengono all'interno delle aziende e considerarli anche per individuare eventualmente anche delle premialità nei bandi regionali che verranno messe nei prossimi anni secondo noi è un fatto molto positivo. Un tema o meglio una realtà, quella del benessere dei lavoratori che molte aziende marchigiane portano avanti da anni. Abbiamo esempi di eccellenza nel nostro territorio già da anni, quindi abbiamo tante imprese che stanno investendo appunto sulla qualità del lavoro, sulla valorizzazione delle risorse umane e sul benessere appunto dei lavoratori. Quindi questo protocollo valorizza le nostre esperienze e ci impegna a fare sistema, a diffondere appunto la cultura del perforo aziendale per attrarre talenti, per trattenere risorse nel nostro territorio. Crediamo molto in questo strumento e speriamo anche che i nostri dipendenti lo capiscono quanto sia importante approfittare di queste strutture, questi accordi trasversali che ci mettono a disposizione un quid in più. Sarà trasferita l'ex Jenny una sede appunto che si trova ad Ancona Sud, il nuovo punto operativo della protezione civile della regione, ma che dopo l'ok della regione arriva anche l'ok del comune di Ancona, un'operazione da 20 milioni di euro. L'ex Jenny, lo stabile in via Albertini, zona Ancona Sud, diventerà a breve la nuova sede della protezione civile delle Marche. Dopo la decisione della giunta regionale è arrivato il via libera anche da parte del Consiglio Comunale del Capoluogo. Per l'operazione è previsto un costo complessivo di 20 milioni di euro, di cui 4 milioni per la struttura e il resto corrispondono ai lavori di riqualificazione dell'intera area, compresi pure gli interventi per l'abbattimento del rischio idrogeologico a causa della presenza di un fosso retrostante. La struttura è stata l'unica proposta pervenuta dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico nel 2022 per un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di una struttura che potesse ospitare la protezione civile. Le spese troveranno copertura finanziaria grazie alle risorse previste nel bilancio triennale della regione 2023-2025. Una dotazione urbanistica in più che serviva per poter completare quest'iter, molto importante non solo per la città d'Ancona ma per tutta la regione Marche. Intanto in quell'area si va a recuperare un'area industriale dismessa da almeno 20 anni, da un lato, dall'altro ovviamente in sede di razionalizzazione di tutte le funzioni della protezione civile. Grazie a questa operazione la protezione civile regionale avrà un'unica sede dove appunto ci sarà il capi, ci saranno tutte le varie sedi che oggi sono dislocate in alcuni immobili diversi. E quindi questo in termini di efficienza ed efficacia anche della risposta alle urgenze chiaramente avrà delle ripercussioni estremamente positive. E quindi ringraziamo la regione Marche per aver individuato quest'area nel capoluogo di regione, appunto come area idonea a ospitare un servizio che per funzionalità appunto è estremamente importante per tutta la cittadinanza di Ancona e della regione Marche. Non ci sono aggiornamenti, questa edizione del nostro telegiornale termina qui l'appuntamento naturalmente all'edizione serale. Un buon proseguimento di giornata sempre sui nostri canali. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.